Benvenuti nel mondo degli orologi Andersen-Genev. Sven D'Andersen, nato in Danimarca nel 1942, è un orologiaio di fama mondiale che ha iniziato la sua carriera come apprendista orologiaio. Nel 1969 realizzò il suo primo orologio per che venne esposto alla mostra Montreux Bijoux. Questa performance unica gli valse il soprannome di orologiaio dell'impossibile, come venne citato dalla stampa internazionale, in quanto nessuno aveva mai realizzato un orologio del genere. La sua eccellenza nel settore dell'orologeria è stata notata da Patek Philippe, che si interessò alle sue creazioni. Nel 1969, Sven D'Andersen si unì a loro, dove imparò i segreti della creazione degli orologi più sofisticati e prestigiosi del mondo. Dopo nove anni trascorsi presso Patek Philippe, Sven D'Andersen ha aperto il proprio laboratorio alla fine degli anni 70, iniziando la sua carriera come orologiaio indipendente, producendo le prime casse per collezionisti italiani. Il marchio Andersen-Genev è noto per la sua innovazione e creatività nel settore dell'orologeria, con la produzione di orologi unici come il Tempus Terre, uno dei primi orologi al mondo ad indicare le fasi lunari di due emisferi terrestri contemporaneamente. Ogni orologio Andersen-Genev è una creazione unica e personalizzata, realizzata su misura per il cliente. Il marchio è molto rispettato nel mondo dell'orologeria di alta gamma e i suoi orologi sono ricercati da collezionisti e appassionati in tutto il mondo. Sven D'Andersen ha continuato a innovare e a creare orologi straordinari sotto il marchio Andersen-Genev fino alla sua morte nel 2019, lasciando un'eredità di eccellenza e artigianalità nella produzione di orologi di alta qualità.